internazionale quadrennale, indirizzo a relazioni internazionali per i lampi e pignati, con la sciarpa rossa decorata da una corona di steppe. Segue, la classe quarta BI del corso internazionale quadrennale, indirizzo a amministrazione finanze e marketing, con la sciarpa rossa decorata da una corona di steppe, accompagna la quarta AI la professoressa Barone e accompagna la quarta BI la professoressa Chiotti. Ecco, le tassi dell'indirizzo a amministrazione finanza e marketing, la quinta AF CLIL, accompagnata dalla professoressa Banzini, con la tradizionale sciarpa rossa. A seguire la classe quinta AF, accompagnata dalla professoressa Chianese. e da ultimo, per il corso amministrazione finanza e marketing, la classe quinta CF CLIL, accompagnata della professoressa Carlone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.